Problema economico, di cui ho già discusso, ma si ripropone attraverso un dialogo che ho avuto con un mio collega, che è un mio ex allievo, è molto più giovane di me, ma nel frattempo sono passati più o meno 20 anni e lui ha stabilizzato una sua realtà professionale, insegna, suona, insomma, si dà da fare. Problema economico, dicevo, ti pagano poco, non ti pagano, ti pagano troppo, beh no, ti pagano troppo, non sono mai abbastanza. La diatriba tra professionisti e dilettanti, ahimè, che dura da decenni. Questo mio collega suona in un gruppo swing, formato da tre professionisti in altro campo, tutte persone già di una certa età, tranquille dal punto di vista economico, chi è in pensione, chi guadagna col suo lavoro. Per cui questo è un gruppo per lui molto interessante, perché è l'unico nel quale può fare esperienza con il gesto tradizionale. Solo che succede una cosa antipatica, hanno fatto un concerto gratis. E vabbè, ci sta, si può suonare per beneficenza per mille motivi. Il secondo concerto non vede un soldo, e allora chiede, ma scusate, ah, guarda, adesso aspetta perché devo chiamare il tipo, poi facciamo i conti. Terzo concerto, stessa situazione. Allorché il mio amico fa, scusate ragazzi, ma io vivo di questo, sono già tre concerti, non ho visto un soldo. Hai ragione, aspetta, facciamo i conti. Gli mandano una mail, e dice, allora guarda, per i due concerti che abbiamo fatto, ti spettano 38 euro. Ecco, io ho frequentato per una vita nel mondo del Dixieland e dello swing dei musicisti che mi hanno insegnato tanto, persone appassionate, che però non avevano predisposto una parte imprenditoriale nel proprio gruppo. Ovvero, basta andare a suonare, chi se ne frega, tanto ci divertiamo, i soldi ci entrano da altre parti. A questo punto, se tu sei l'unico professionista di un gruppo, dovresti diplomaticamente mettere i puntini sulle i. Io ricordo tantissimi anni fa, quando suonavo in mille band Dixieland, ce n'era una, più di altre, che aveva un'attività incredibile, sia in Italia che in Europa, e addirittura anche oltreoceano. Io e il clarinettista eravamo i più giovani e anche i due professionisti del gruppo. Tutti gli altri della band erano persone più grandi, di età, e come in questo quartetto del mio amico, tutte tranquille a posto economicamente. Successe che io e il clarinettista un giorno ci vedemmo con il leader della band e gli mettemmo in chiaro una cosa. Guarda, mi devi scusare, non voglio fare il mercenario, però io vivo di musica, mi sbatto come posso, suono di qui, suono di là, a volte guadagno bene, a volte non guadagno, insegno, insomma, faccio di tutto, questa è la mia vita e i guadagni entrano grazie alle bacchette e alle spazzole. E il leader della band mi ricordo che ci disse non preoccupatevi, quanto volete a concerto. Io e il clarinettista ci accordammo lì in diretta alla Luce del Sole per una cifra media, dignitosa, benissimo. Per anni con questa band abbiamo fatto una valanga di concerti, peraltro il leader non è che andasse a suonare gratis, però, insomma, il compromesso era sì, ci facciamo pagare, se però la contrattazione diventa complicata, va bene tutto, basta girare. Io e il clarinettista eravamo pagati sempre. A volte il band leader o addirittura tutto il resto della band si tassava, prendeva meno, non prendeva niente per pagare i due professionisti. Io ho consigliato al mio amico di fare la stessa cosa. Non so com'è andata a finire, me lo deve ancora dire, probabilmente quando vedrete sto video la cosa si sarà già risolta, immagino. Se questo sistema non dovesse essere approvato dalla band, in questo caso da questo quartetto, quindi da questi tre musicisti non professionisti, allora l'alternativa è una sola. Ritirati dal gruppo. È triste, lo so, perché uno pensa, insomma, però suono in un bel gruppo, in uno stile che non conosco, quindi io faccio esperienza, cresco professionalmente, amplio un po' il panorama delle mie possibilità professionali. Sì, però a un certo punto bisogna anche essere determinati perché si creano dei precedenti per la categoria dei musicisti. È un vecchio argomento, non nasce adesso. Il problema di andare al ribasso. Tutto ciò rende difficile poter considerare il musicista un lavoro. È chiaro anche che poi, a un certo punto, la tua decisione fa sì che ci sia uno spartiacque. Potrebbe essere che il gruppo di dilettanti prenderà un batterista dilettante e il professionista si scolla da questa situazione. A me è successo quando decisi, dopo vent'anni di Dixieland e di Swing, di chiudere le porte a quell'ambiente, perché almeno il 50% delle volte la situazione era di questo tipo. Si va a suonare e ci si butta via dal punto di vista della dignità economica. Questo, ahimè, succede prevalentemente nel mondo del gesto tradizionale. Se penso a pionieri artisti come Louis Armstrong, Jelly Roll Morton, Fats Waller, Baby Dots, Johnny Dots, Kid Dory, eccetera, che hanno inventato questo idioma, hanno inventato una musica nuova, un linguaggio nuovo, cacchio, per rispetto a loro, oggi un gruppo di Dixieland dovrebbe costare tre volte tanto rispetto a un gruppo di jazz moderno. E invece succede che Vuoi perché è un genere di facile ascolto, che poi sia complicatissimo suonarlo, l'ho già raccontato in altri video. E quindi è uno stile che viene spesso invitato alle feste, ai contesti di intrattenimento, perché? Perché è poco impegnativo e fa allegria. Vabbè, purtroppo anche questa è la realtà che non condivido per niente, ma... E' pur vero che poi ci sono delle band Dixieland che frequentano dei festival meravigliosi, teatri, si fanno pagare quello che bisogna, però non c'è una stabilità economica riguardo al mondo del Dixieland, cosa che invece c'è di più nel mondo del jazz moderno. Meditiamo su questo fatto, ovvero ti sta bene suonare così, giusto per passatempo, oppure è corretto pretendere un minimo dignitoso di contributo economico, visto che questo è il tuo lavoro? State a decidere. Tanto la situazione è questa, lo è stata e lo sarà, non cambierà mai niente. Siamo noi individui che dobbiamo pensare a noi stessi per salvaguardare la nostra etica professionale e non ultimo pensare un po' anche alla categoria e cercare di non affossarla del tutto. A voi la scelta.